...diciamo più sociale, ora è che la raccontasse qualcuno di loro. Allora, gira un video molto bello, credo girato a Londra. Pre-Brexit. Pre-Brexit. Quindi non vi hanno cacciato. No, no. Non vi hanno cacciato. Per cui loro hanno fatto... Raccontate voi. Anzi, sono stati molto disponibili perché avere un'autorizzazione per girare ad Oxford Street... Non è facile. Non è facile. Assolutamente. Abbiamo fatto una cover di un brano chiamato Il Mondo. Che noi conosciamo tutti benissimo. Non sa quante le guanate. L'abbiamo fatto per sostenere un'associazione che si chiama Cessdi e che da anni porta avanti un progetto chiamato Food Right Now per il diritto al cibo in tutto il mondo. Dovrebbe essere un diritto di tutti ma a quanto pare non è così, almeno per... quasi 800 milioni di persone. E insomma, ci pareva il brano giusto per portare avanti un messaggio. cioè che il mondo è una casa comune, questo è un po' il mozzo di Cessdi. e le risorse che ci sono sul nostro pineto dovrebbero essere di tutti ma non lo sono. Come dicevo, a quanto pare non è così e acquistando il brano sui digital store si può aiutare Cessdi a dare una mano dove c'è bisogno di dare una mano. Sì, una cosa che abbiamo chiamato lettera con le amiche, che tu non hai ancora fatto però... lo facciamo ottimo. Praticamente basta prendere il proprio smartphone, un pochino, poi sentiamo uno ormai, e fare questo video selfie, o alguno ancora dei dokiassi. Basta fare un video selfie girandolo su se stessi, riprendendosi mentre si recita una frase come qualsiasi di Gira Mondo Gira, o una frase alla canzone. Gira Mondo Gira nello spazio senza fine, perché molti magari non la conoscono, la potremmo? Sì, la conoscono, dai, è più giovane o no? Infatti qualche nostro fan è venuta a 10, è bellissimo questo film. L'avete fatto voi? No, 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 no. No, 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 no. E chiuderemo? La nuova è musica dei film. E comunque postare questo video selfie sul web, scrivendo, dicendo nel video, io sto con Cessdi e tu per creare questa catena senza fine e cercare di sensibilizzare soprattutto i ragazzi più giovani che non conoscono determinate tematiche. Noi più che altro abbiamo cercato sempre di portare leggerezza nelle nostre canzoni, di emozionare il nostro pubblico, ma mai abbiamo cercato di trasmettere della superficialità. In questo caso abbiamo cercato di fare qualcosa di più, pensando che la musica possa essere un veicolo anche di un messaggio diverso e superiore. Grazie. Grazie. E tutto questo ancora augurio di Dio e Jimmy che ricampieremo il mondo. Assolutissimo. Comunque dicevamo prima tra noi ancora web è un grande, 39 anni e se importa meglio di Niko Colonna. No, è comunque bello essere qui dopo, perché noi forse quest'anno è la decima volta che scriviamo per questa agenda meravigliosa. Sì, forse il primo anno è stato il 2008, quindi nel 2017 facciamo dieci anni e per noi è veramente un piacere essere qui con voi e siamo veramente felici di ciò Ed è un piacere per noi ospitare voi Grazie, applauso